lungo il torrente malina un altro appostamento e altri tranelli per non sono sicura ma penso caprioli tutto qui intorno il terreno scavato probabilmente la ricerca di radici e anche qui l'esca attaccata a un palo possibile che caprioli riescono a scavare con tale forza delle buche così grandi credibile tutto qui intorno e anche qui attaccata al palo probabilmente già finito i cacciatori mettono l'esca allora